La città metelliana in questi caldi giorni d'estate fa ancora i conti con la deprecabile nonché illecita abitudine di incendiare fogliame e sterpaglie e con la conseguente problematica, soprattutto nei casi in cui al ruogo sono aggiunti rifiuti di ogni genere, dei fumi molesti che turbano il quieto vivere dei cittadini. Proseguono, su precise indicazioni dei vertici istituzionali, i serrati controlli delle forze dell'ordine e del nucleo degli ispettori ambientali, finalizzati ad individuare i trasgressori del divieto. Nei giorni scorsi proprio gli ispettori ambientali hanno compiuto ben tre interventi nella vasta area della località San Martino, in particolare nei pressi della località Petraro-Santo Stefano, i volontari hanno avvistato una colonna di fumo nero, tanto che quando sono giunti sul posto si sono ritrovate al cospetto di una nube maleodorante. A brevissima distanza vi erano abitazioni e poiché il lacre fumo fuoriusciva da un canale di scolo, privo d'acqua, hanno iniziato a chiedere informazioni ai residenti. Tuttavia ad un certo punto sarebbero stati assaliti in modo verbale da un cittadino che le avrebbe costretti con violente minacce verbali ad allontanarsi dal luogo, impedendo l'espletamento del necessario controllo ed il conseguente spegnimento a cura della colonna mobile della protezione civile immediatamente allertata. I volontari così hanno atteso che l'uomo si allontanasse per procedere allo spegnimento delle fiamme. Da quanto si apprende, gli ispettori ambientali sarebbero intenzionati a segnalare alla procura della Repubblica per le conseguenze di legge l'uomo, che oltre ad impedire il controllo ai pubblici ufficiali quali sono gli ispettori ambientali, avrebbe rifiutato di indicare la propria identità personale. Intanto continuano in diverse zone della città, tra cui via Michele di Florio e in località Croce, le segnalazioni di cittadini stufide ricorrenti fumi molesti.